Per cinque anni hanno vissuto a Licata senza destare sospetti due persone semplici arrivate nell'embo estremo d'Italia ed Europa senza che nessuno si preoccupasse di verificare l'identità e soprattutto cosa ci facessero quei due stranieri che si presentavano come padre e figlia in città. Ma quello che è stato scoperto ha lasciato increduli gli abitanti di Licata che non sapevano di avere accolto nella loro comunità un uomo che aveva rapito una ragazzina e ne aveva fatto la sua amante. Per tutti Bernard e Maria erano padre e figlia, una famiglia tedesca che viveva di espediente e che meritava affetto e integrazione. A chi l'ha visto la storia incredibile di una ragazza che è tornata dai suoi genitori cinque anni dopo essere scomparsa e fuggita con l'uomo che l'aveva adescata in chat. Nel 2013 erano scappati insieme ma l'uomo era stato denunciato dalla polizia tedesca perché la ragazzina non aveva ancora raggiunto l'età del consenso. Così la Germania aveva spiccato un mandato di cattura internazionale per i reati di rapimento e violenza sessuale. Nello stesso anno i due erano stati riconosciuti in Polonia ma poi erano riusciti a far perdere le loro tracce. Negli ultimi anni più nulla, nessun avvistamento, nessun contatto, niente che potesse far sperare nel lieto fine di questa vicenda. Invece dopo cinque anni Maria Enzelman è riapparsa dal nulla, ha scritto alla famiglia un messaggio su Messenger dicendo che voleva tornare a casa. Una volta tornata in famiglia la diciottenne è stata sentita dalla polizia tedesca. Nonostante il comportamento dell'uomo nei suoi confronti fosse peggiorato era più facile andare avanti così che ritornare. Non sapevo come avrei potuto fare e avevo una paura tremenda, ha detto alla polizia. Poi quando è diventata maggiorenne ha cercato i genitori su internet, ho evitato di andare in internet per tutto il tempo per paura che la polizia mi trovasse, ha detto, ma quando lo ha fatto la famiglia non sono più riuscita a sopportare i sensi di colpa. Aveva 13 anni quando è arrivata a Licata Bernard Manfred Haas, 40 anni, più vecchio di lei. Lo aveva conosciuto su internet due anni prima, si faceva chiamare Carletto e diceva di avere 15 anni. Nella realtà era tesoriere di un partito di estrema destra e sposato ed era stato proprio la moglie a scoprire la tresca e a denunciarlo, ma troppo tardi Bernard era riuscito a plagiare la ragazzina e a portarla in Sicilia. Quando Maria ha deciso di tornare in Germania, lui è andato a cercarla, ma a Friburgo è stato arrestato. Increduli i ricatesi che vivono nella zona della Marina, dove Bernard e Maria erano due stranieri senza terra e senza storia da aiutare, visto che spesso venivano visti nei pressi di un supermercato a chiedere l'elemosina. Il resto tra omertà e indifferenza è un'incognita. Qualcuno si è chiesto come mai, a nessuno è venuto in mente di controllare queste persone e chiedere documenti, ma non hanno commesso nessun reato. Chiedevano solo l'elemosina, si difende qualcuno, ma in realtà il reato, quello più odioso, lo aveva commesso quell'uomo che spacciava la propria donna molto più giovane di lui, per sua figlia.